Buongiorno, buon sabato mattina a tutti voi, ben trovati qui per questo appuntamento quotidiano con la stampa, occhio ai giornali su Fano TV, prima però di sfogliarli, come sempre guardiamo il santo del giorno e le previsioni del tempo, oggi sabato 4 luglio, Santa Elisabetta di Portogallo, Regina, il sole è sorto alle 5.31 e tramonterà alle 20.54, giornate molto lunghe in questo periodo, vediamo le temperature che ci rimanda la nostra stazione meteo, vedete già partiamo con valori importanti, quasi 22 gradi con un'umidità del 70% che fa percepire una sensazione maggiore di temperatura, siamo intorno ai 22, il vento praticamente è assente, brezza leggera e vediamo come si presenta il cielo, bello terzo e limpido. Vediamo cosa ci dicono le previsioni di protezione civile per oggi, domani e lunedì, sabato appunto ci sarà cielo sereno, poco nuvoloso, transito di lievi velature, precipitazioni assenti e temperature abbastanza stabili ma sono già a un bel grado, sereno o poco più nuvoloso anche per domenica, vedete sole pieno su quasi tutta la regione, le temperature però alzeranno il loro valore, precipitazioni assenti, mare calmo, quindi insomma bagni e qualsiasi attività marina vogliate voi fare, anche per lunedì un cielo bello sereno, sole pieno, mare poco mosso, quasi calmo, anche qui brezza, quindi venti assenti, nessuna precipitazione serena o poco più nuvolosa, quindi insomma abbiamo davanti un weekend di tanto sole e tanto mare per chi ci va, tendenza per i giorni successivi quale sarà, condizioni di stabilità continueranno e quindi anche per la gran parte della prossima settimana avremo questo tempo così stabile, soleggiato e anche le temperature saranno temperature importanti, quindi mettete in campo tutto quello che avete per affrontare la calura, compresa anche naturalmente il vostro atteggiamento, bevete, copritevi, non state se siete anziani nelle ore più calde della giornata esposti al sole. Vediamo i giornali, oggi è giorno di partenza per i saldi ma non tutti sono d'accordo con le date, vediamo perché i commercianti sono delusi perché senza ripresa non c'è speranza, il direttore di Confesercenti dice i ribassi parallelizzano gli acquisti addirittura 15 giorni prima del via, quindi sui tempi dei saldi c'è un errore di fondo, meglio a febbraio e ad agosto e quindi insomma i commercianti dicono se le persone sanno che iniziano i saldi smettono di comprare 15 giorni prima e quindi insomma c'è un calo degli introiti un paio di settimane prima, quindi per loro è da rivedere un po' la tempistica. Tassa sul turismo, parliamo appunto di amministrazione comunale, operatori ingrati, non abbiamo utilizzato i soldi per il Carnevale, il Carnevale Marchegiani riassume gli interventi del settore. Ancora nelle pagine del Corriere Adriatico un brutto episodio che si è verificato anche nella nostra città, non soltanto in grandi città, c'è un allarme sui mezzi pubblici perché c'è stato un ragazzo, un minorenne marocchino privo di biglietto che ha dato una testata a un controllore di Mondolfo, siamo davanti alla stazione di Fano su un autobus, prima di partire gli ha chiesto il biglietto e lui ha reagito in questo modo, un minore appunto colpisce un attista di Mondolfo e gli spacca uno zigomo, finisce all'ospedale l'autista e qui la stazione di Fano dichiara lui è un far west e quindi non si è arrivati all'amputazione del braccio però episodi poco belli. Sull'outlet siamo a Mondolfo, la giunta non rispetta le regole, gli ambientalisti ribadiscono nessun giudizio nel merito ma non si possono violare le norme. La pagina principale di Fano del Corriere Adriatico è dedicata all'ambito, all'ambito sociale, i sindacati prendono tempo, nessun provvedimento contro Battistini, parte l'istruttoria sulle irregolarità da lei commesse. Vedete al centro l'assessore dei servizi sociali Marina Barniesi, allo stesso tempo però il Comune ha chiesto un parere alla Regione sul procedimento da adottare. Transazioni, Aguzzi in commissione ribadisce che la Rincicotti Orciani è un'eredità della giunta precedente sul suo primo mandato transazione scelta dovuta al CDA scaduto. Andiamo nelle pagine di Pesaro, sempre per la stessa testata. Un episodio di cronaca colpita da malore, una donna ancora senza nome cade in acqua, subito soccorsa ma non ce la fa. Quindi pronto intervento degli operatori di salvataggio, però non c'è stato nulla da fare. Cantiere navale, siamo sempre a Pesaro, vertice con la cordata inglese. Questa è una notizia ripresa anche da altri giornali. La canteristica soprattutto a Pesaro si sta avviando verso una svolta. Allora la vediamo subito. Nelle pagine del resto del Carlino che riguardano Pesaro, il porto Salpa, parola di sindaco. Quindi Ricci conferma un incontro sul futuro del cantiere navale, ha avuto con l'investitore inglese. Sono stati annunciati dal primo cittadino 200 posti di lavoro in più. Il tutto a fine luglio ci sarà questo nuovo rilancio della canteristica pesarese. Ipotesi occupazionali ci hanno detto che potranno dare lavoro a 200 persone e poi naturalmente ci sarà anche tutto il discorso dell'indotto che ruota attorno alla canteristica. Quindi è numericamente più importante di 200. Rimaniamo nelle pagine del resto del Carlino perché per una situazione che si va delineando in maniera positiva, però la fotografia che fa la CGL delle nostre imprese non è affatto incoraggiante. La CGL su imprese e occupazione dice siamo i peggiori del centro nord presentato l'annuale studio. Sono stati persi nel 2014 4.000 posti di lavoro. Simona Ricci, un quadro scioccante, un territorio che deve essere ripensato e qui sono elencati tutti i numeri di questo aspetto. Ancora nelle pagine del resto del Carlino la CNA come ogni anno porta in piazza le eccellenze del comparto tessile e produttivo in ambito della moda. Quindi pronta ancora la sfilata, riporta la CNA la moda in piazza. Le star della serata saranno Anna Falchi e l'attore Vaporidis. È un progetto internazionale, non è solo un momento di glamour, ma è un momento di visibilità per tante aziende del comparto pesarese perché c'è tutto il comparto Sky Moda di Class TV e quindi una vetrina a livello nazionale ed internazionale. Però il rovescio della medaglia è che i dipendenti della CNA faranno un presidio per i 32 messi in mobilità. Quindi saranno lì in piazza a mostrare la loro vicenda, il loro pensiero con un presidio appunto apposto in piazza l'11 luglio in occasione della sfilata. Però il presidente e i vertici della CNA ribadiscono che la CNA è a tutti gli effetti un'azienda e quindi ha bisogno in tempi di crisi di un piano industriale di una ristrutturazione, non è una onlus. Nelle pagine di Fano del resto del Carlino, Alvia e Sant'Arcangelo, ieri c'è stata la prima serata, Tacabanda, il calendario parla chiaro, 65 gli appuntamenti, il programma nel cortile Sant'Arcangelo tra spettacoli, musica, concerti, il 23 ci sarà Fano, Jazz, Sant'Arcangelo è pronto, 480 posti seduti, inaugurata la nuova struttura. Addirittura il cortile è un cortile acustico, una perfetta acustica, lo garantisce Saul Saucci che è uno che di musica dovrebbe intendersene perché è il presidente dell'orchestra sinfonica Rossini ed è questo signore qui e qui vedete Marchegiani invece è al suo fianco il sindaco Massimo Seri e quindi vedremo come si dipanerà questa estate al Sant'Arcangelo, Alvia questa prova generale su una nuova location per gli eventi musicali della città di Fano. Lucia Capodagli, parliamo di Aset Spa a tutela degli utenti, io sono qui per questo, è un'intervista, è quella che rilascia al resto del Carlino la presidente di Aset Spa e delineando le sue linee politiche sul suo mandato. Ancora il resto del Carlino, sempre Fano, insomma un'estate ricca di tanti eventi, notte a Lido c'è ancora una sfilata che si tinge di glamour, una serata estiva anche questa sempre molto amata, poi giornata del cuore alla tensostruttura del Lido, oggi alle ore 10, appunto sotto la tensostruttura organizzata come tutti gli anni da Fano Cuore e poi i giovani insegnano ai più adulti ad utilizzare nuovi mezzi tecnologici, nuovi supporti come i tablet, insomma che non tutti sono avezzi a questo utilizzo, a conoscerne tutte le particolarità tecniche, però i giovani sono più smanettoni, come si dice, e quindi insegnano ai più grandi. Gli studenti dell'Apolloni vanno all'Expo, anche loro, un nuovo presidio nel paviglione Marche e poi anche il Borgo Caur di Fano si anima con una risata, la più grande del mondo in un minuto, sarà protagonista questo performer, Madame Cataria che è stato definito dalla New York Times il guru della risata, quindi un evento da Guinness, dalle 23 alle 23.01, stasera potremo assistere a questa performance in Borgo Cavour. L'altra testata che guardiamo come sempre è il messaggero, vediamo, insomma anche qui in evidenza la crisi della provincia, la CISL dice appunto la provincia finisce al sud, studio sui bilanci aziendali e la CGL lancia l'allarme, numeri ormai da meridione, che sappiamo non vivere grandi momenti dal punto di vista occupazionale da sempre, lavorativo, insomma. Bagnante trovata, ahimè, in acqua morta per il malore, questa è la notizia centrale, è accaduto a Sottomonte e anche qui il cantiere navale, la cordata inglese vuole concludere e ieri appunto c'è stato il vertice con l'amministrazione comunale su questa nuova vita dei cantieri navali. E il meteorologo nelle pagine, nella pagina di Pesaro, del messaggero, dice appunto il weekend con caldo e affa, ma anche il resto della settimana sarà così. E quindi anche a Pesaro i blizzi in spiaggia, dice Ricci, le regole sono da rispettare, quindi ombrelloni sequestrati sottomonte dal blizzi e il sindaco si schiera con la capitaneria e anche se non si placa la protesta dei frequentatori nel tratto libero a cui hanno requisito l'attrezzatura. La città si è colorata di rosa, le feste appunto della notte e insomma al via anche i saldi. San Bartolo è stato insomma il posto dove si è avuto un principio di incendio, un falò che poi è stato mal gestito e ha provocato un principio di incendio. È stata la guardia costiera a notare questo falò e quindi è corsa subito sul posto e ha attivato i pompieri che hanno domato l'incendio. Anche qui la crisi della provincia che la fa sprovontare al sud, segnali positivi però ci sono, ma niente è ripresa strutturale, è qualche episodio così, di qualche comparto, più che altro l'export che segna un più, l'unica voce insomma, nonostante ci sia appunto l'embargo, le restrizioni con quello che era un mercato importante come quello della Russia, l'export è l'unica voce in diverse aziende con il più davanti. L'ultima pagina che vi facciamo vedere per oggi del messaggero è quella che riguarda Fano, promossa alla corte del Sant'Arcangelo, acustica eccezionale, migliore addirittura rispetto alla malattestiana. Quindi esame passato, positivi i commenti dell'orchestra sinfonica Rossini al suo debutto appunto ieri sera durante la notte rosa. Aperta l'istruttoria sulla questione dell'ambito sociale lo ha deciso il comitato dei 12 sindaci, vertice appunto sulla criticità gestionali segnate a Procura e a Corte dei Conti. Due brevi qui in piedi pagina, fa discutere l'amianto dell'ex mattatoio, 5 Stelle o Miccioli accuse il PD di trattare la questione con eccessiva superficialità e poi da asfaltare anche le strade Collinari, il sollecito è stato avanzato all'assessore Paolini dai residenti di Cucurano che hanno attirato l'attenzione dell'assessore sulla zona di Magliano che necessita subito di rimedi. Bene, grazie per essere stati in nostra compagnia, finisce qui questo appuntamento di Occhio ai giornali che tornerà lunedì mattina alle 7.30 naturalmente puntualmente. Grazie per essere stati in nostra compagnia, buon sabato e buon weekend a tutti voi.